Qui a destra, a destra, arriva calcio circolare, ok? Quindi calcio circolare al volto, vai, arriva il calcio circolare al volto, sono in ritardo, allora vado a contrastarlo con tutti i suoi bracci, quindi qui viene, vai, uno, vado subito a colpi dei denti, quindi faccio questo movimento qua, uno, passo all'indietro, calcio a girare, ok? Quindi qui viene, indietro, faccio girare, indietro alla destra, ok? Quindi, uno, due, giro, adesso questo, ok? Maestro, metti le mani in questo campo, chi non va, no? Viene, va, va, e vado di nuovo. Lo fa pure così? Lo siamo pure alternati. Certo, potete fare sia alto che basso. Grazie. 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 Grazie.